Da mercoledì 15 giugno è possibile recarsi in ospedale per i prelievi e le altre prestazioni ambulatoriali senza bisogno di prenotazione. Anche la SST di Lecco, su indicazione della Regione Lombardia, ripristina le modalità di accesso pre-Covid. Resta la possibilità ed è comunque consigliato riservare il proprio posto per evitare code e assembramenti. Per il Manzoni e il Mandi, che per i poliambulatori di Calozzi o Giono, è possibile usare il sistema Tupassi. E per i poliambulatori di Mandello, Il Ginate e Val Madrera bisogna chiamare il call center regionale. Tutte le altre regole di accesso restano invece invariate. Visitatori e accompagnatori devono essere muniti di Green Pass rafforzato e in caso di sole due dosi anche di tampone negativo. Lo stesso vale per chi si reca con delega alla struttura per il ritiro dei referti e delle prestazioni sanitarie, per prenotare i recuperi o per usufruire dei servizi non sanitari. Fanno eccezione le neomamme che si recano nel presidio per un controllo postpartum e le donne in gravidanza, gli accompagnatori di disabili, di persone non autosufficienti e di pazienti minorenni. Per queste categorie è sufficiente il Green Pass base che si ottiene con vaccinazione, guarigione o test negativo. I visitatori possono fermarsi in ospedale per massimo 45 minuti. Tutti all'interno dei presidi devono indossare almeno una mascherina chirurgica.